Gaglio, dopo la disfatta di Caporetto tra il dicembre 1917 e il gennaio 1918, le perdite italiane della Grande Guerra sull'Alto Piano contarono 86 ufficiali e 3.000 soldati. Di questi, 2.456 erano bersaglieri. Un sacrificio quello dei soldati cremisi che il Comune di Gaglio ha voluto premiare concedendo ai bersaglieri la cittadinanza onoraria. Domani è in programma la cerimonia ufficiale. Alle 9 a cima a Valbella si svolgeranno gli onori, l'alza bandiera e la messa. Alle 11 sarà la volta dell'onore ai caduti ai due monumenti di Gaglio, poi il corteo e la tradizionale corsa dei bersaglieri. Infine il saluto con la fanfara di Marostica.